Eccoci qui, salvo su Dall'Ortatrim, 980 del P, guardate qui, qui l'arbitro proprio è uscito dai coppi, guardate qui, attenzione, guardate qui, semplice cosa, Rami, entra, recupera palla, l'arbitro fischia fallo e guardate, espulso Rami, espulso Rami, ma che cosa ha fatto Rami? Adesso vorrei che mi dite dov'è il fallo, ne vediamo per bene, Rami, va qui, guardate non prende neanche il giocatore, va qua, non lo tocca neanche, prende fallo forse con la mano, vola sana, l'arbitro da fallo e caccia Rami, espulso Rami, ma voi mi ditevi dov'è il fallo, qui l'arbitro è proprio uscito dai coppi, vediamo qui, qui il fallo non c'è, forse con la mano, ma non è da rosso. Come vedete, il cartellino è rosso, e l'arbitro caccia, espulso Rami, io qui ragazzi sono senza parole, sono in dieci adesso, da mio fratello, per colpa dell'arbitro, mi ha espulso ingiustamente di Rami, commentate, dite la vostra, poi se avete qualche fallo ditelo, però qui l'arbitro caccia fuori. Niente, grazie. Vediamo qui, vediamo qui, vediamo qui, cosa vede l'arbitro, Rami, prende la palla, forse con la mano, l'arbitro non ci pensa due volte e lo butta fuori. Andiamo qui, vediamo cosa vede l'arbitro, l'arbitro è un fallo che non c'è e lo butta fuori, basta, ciao. Grazie. Grazie. Grazie.